La persona più intelligente di sempre. Chi è la persona più intelligente di sempre? Resterai a bocca aperta nello scoprire che alcune delle persone più intelligenti che sono vissute sul nostro pianeta, come Nikola Tesla, Albert Einstein o Leonardo da Vinci, in realtà non ci si avvicinavano nemmeno, almeno in termini di IQ. IQ sta per quoziente intellettivo, ovvero la misura di quanto sia intelligente e capace il cervello di ognuno di noi. L'IQ viene assegnato attraverso una serie di test ed il punteggio medio è di 100. Chiunque abbia un IQ superiore ai 140 viene considerato un genio, anche se non si tratta di una misurazione completamente accurata dell'intelligenza. Albert Einstein, ad esempio, aveva un QI di 160, mentre la donna con il QI più alto, 190, è Marilyn von Savant, saggista americana. Tuttavia, la persona con il QI più alto mai registrato è William James Sidis, un bambino prodigio nato nel 1898. Leggeva il New York Times a soli 18 mesi, parlava fluentemente circa 25 lingue e dialetti e venne messo all'università di Harvard ad 11 anni, il suo QI era di 254.